Secondi, minuti, ore e giorni corrono inesorabilmente verso la data del 1 gennaio 2025, giorno individuato per la chiusura definitiva dei cosiddetti tribunali minori, così come stabilito dalla riforma della giustizia parata con decreto legislativo del 2012 dall'allora guardasigilli Paola Severino, che di fatto cancellava 37 tribunali italiani e 220 sezioni distaccate in nome della famigerata spending review. In Abruzzo la rimodulazione della geografia giudiziaria, che prevede la suppressione dei palazzi di giustizia di Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona, era stata fin da subito congelata per problemi legati alla Corte d'Appello dell'Aquila a seguito del terremoto del 2009. Prima rinviata di tre anni e poi solo di uno con il decreto 1000 proroghi di dicembre 2022, ora la chiusura definitiva dei tribunali minori è stata fissata al 1 gennaio del 2025 e mentre il conto alla rovescia corre inesorabilmente, l'avvocato Giampaolo Di Marco, segretario generale dell'ANF, l'Associazione Nazionale Forense, analizza problemi e avanza soluzioni. Dal 2012 di acqua ne è passata sotto i ponti, nonostante sia un periodo siccitoso. Probabilmente se l'è lasciata correre senza razionalizzarla, cioè capire se effettivamente quella riforma era una riforma giusta nella sua intera portata. Lì c'erano esigenze di bilancio, adesso ci sono esigenze di centralità della giustizia a favore dei cittadini. Oggi potremmo avere la possibilità di ripensarla senza tradirne la razio dell'epoca. L'Abruzzo è stata una delle regioni più penalizzate dalla chiusura perché di otto tribunali ne chiuderebbero quattro. Segnalo che l'intero territorio più a sud della regione Abruzzo, che è quella che produce una larga parte del PIL, della regione stessa, rimarrebbe integralmente scoperta sia sul piano civile sia sul piano penale. Io credo che centinaia di chilometri lasciati completamente sguarniti siano comunque una sconfitta per tutti. Non siamo qui a parlarne da avvocati per gli avvocati, ma ne parliamo da avvocati per i cittadini che insieme agli avvocati ogni giorno usufruiscono del settore giustizia. La costituzione di megalopoli giudiziari a scapito della soppressione di presidi di prossimità territoriale apre dunque il dibattito sulle conseguenti problematiche del caso. Su tutte, il congestionamento dei tribunali dei capoluoghi di provincia, che dovrebbero assorbire causa e personale dei tribunali da supprimere senza tener conto della distanza geografica delle giurisdizioni dai capoluoghi di provincia, ulteriormente complicata dall'orografia abruzzese. Chiudere i tribunali minori significherebbe inoltre lasciare intere aree sguarnite di presidi di legalità a vantaggio di infiltrazioni malavitose soprattutto nei territori di frontiera. Inoltre il taglionetto di taluni tribunali priverebbe alcune città di palazzi di giustizia essenziali per comuni come Sulmona, dove insiste uno dei penitenziari più grandi d'Italia che accoglie anche i detenuti al 41 bis. Non credo che la digitalizzazione porti a dire che ci sarà sempre meno fisicità nei tribunali. Un processo e un sistema di relazione e quindi dire che la digitalizzazione favorirà il minor bisogno di struttura fisica della giustizia forse è l'ennesima bugia che si vuole raccontare per realizzare poi altro. Allora razionalizziamo la risorsa ripensando il confine giurisdizionale che serve ad un determinato territorio. La pandemia ci ha restituito una risposta molto chiara sulla razionalizzazione degli spazi dedicati al cittadino. Allora forse vale la pena di chiedersi se sia utile evitare di attendere una pandemia giudiziaria per capire che bisogna essere vicini ai cittadini e non troppo lontani.